ciao e bentornati sul canale e non arriva li ho cominciato queste li caressano a me allora abbiamo già aperto un pacchetto ma non c'erano più di trovare non abbiamo già aperto due mi ricordo noi avevamo due robottini mi ricordo che ce ne erano due non lo so no un mini robot lenticolare boh mi erano piaciuti talmente tanto potete prendiamolo ancora avevamo trovato questi due quali? ok avevamo trovato questi due siccome sono cinque quali scusa fa vedere rosso e verde rosso e verde il giallo è bellissimo e anche quello che sembra cattivo è bello qui ne apri uno io apro l'altra io voglio il giallo hai trovato il giallo ho trovato il giallo intanto vi faccio vedere i pacchettini hai trovato il giallo ho trovato il giallo bene aprire due pacchetti alla volta ha molto senso quando trovi la stessa cosa però è il bello proprio di queste collezioni un cartoncino il dubbio ecco io oggi non riesco ad aprirlo è carino è anche glitterato raga pace l'apertura facilità non riesco dammelo te l'ho fatta vediamo se per caso ce n'è un secondo un terzo dentro no qua no e qua neanche però sono delle patatine oh guardate guardate c'è il sorrisino la vedete la vaccina meglio se vedete la vaccina no poi scompare così appare così qua gli occhi detto aiuto i due occhietti le due rigate la boccuccia ma si appare leggermente carino sono carini gli adesivi sono attaccati storti però sono carini devo dire molto collezionabili perché poi sono personaggi 3d e non sono male ma non parliamo mai di che cosa vorresti trovare in un sacchetto di patatine come come personaggino come una cosa senza non dire disney un film in particolare proprio animali macchinine aeroplani personaggi mini peluche quelli floccati che cosa personaggi se cosa io non so se io non so se l'hanno mai fatto i pesci tu vuoi trovare ma non penso pesci grazie spero che tu mi rispondesse pesci comunque io non so se l'hanno mai fatto che cosa ma io vorrei un pacchetto di patatine gigante no di harry potter io vorrei un sacco di patatine talmente grande da essere io la sorpresa di harry potter con dentro tipo che ne so dei pupazzetti di harry potter in effetti ovetti tanti ma patatine non ne ho memoria stai agitando un martello in maniera minacciosa sarà rimasta sul tavolo per un chiodo di prima e tu lo svento di maniera minacciosa comunque sono simpatici devo dire questi personaggi si molto carini ne avevamo trovato il verde e il rosso perché ne avevamo già aperti due ce ne mancherebbero due per finire la collezione bene comunque vi ricordo di iscrivervi al canale ci faremo non lo so bene vi ricordo di iscrivervi al canale e noi vi salvemo ci vediamo al prossimo video ciao ciao